gli animali. Nell'induismo si ritiene, come spiega anche Shankarachara nel suo commento alla Bhagavad Gita, capitolo 5, versetto 40-44, che dopo la morte, chi non ha dissolto l'illusione di una individualità separata, realizzando l'identità con in sé, entra in uno stato di paradiso o inferno, secondo il karma buono o cattivo, che ha accumulato durante la vita terrena. Al termine di questo periodo, in cui raccoglie i frutti delle sue azioni, egli torna di nuovo sulla terra, in una nascita alta o bassa, secondo il proprio karma, per esaurire quel tipo di karma chiamato Prarabda, cioè il destino attivo nella vita presente. Nel corso della nuova vita terrena, egli accumula del karma nuovo, Agami, che si aggiunge al suo sancita karma, cioè al karma residuo accumulato nelle vite passate, e differente dal Prarabda. In genere, si ritiene che si possa progredire e liberarsi dal karma soltanto durante un'incarnazione umana. Tuttavia, Sri Bhagavan ha fatto intendere che anche per gli animali è possibile liberarsi dal karma. In una conversazione riportata in questo capitolo, disse, non sappiamo quali anime possano occupare quei corpi, e per esaurire quale parte del loro karma è incompiuto, essi cerchino la nostra compagnia. Anche Shankarachara affermava che gli animali possono conseguire la liberazione. Inoltre, uno dei Purana racconta che il saggio Jadavarata, mentre stava per morire, fu preso dal fugace pensiero dell'amato cerbiatto che aveva allevato, e per questo dovete rinascere come cervo, per liberarsi dall'ultimo attaccamento che gli rimaneva. Sri Bhagavan mostrava, per gli animali che il destino aveva messo in contatto con lui, la stessa considerazione che aveva per gli esseri umani. E gli animali non erano attratti verso di lui e meno degli uomini. Già a Guru Murtam, uccelli e scogliattoli, erano soliti costruire i loro nidi intorno a lui. A quei tempi i devoti pensavano che gli fosse tanto immemore del mondo quanto ne era distaccato, ma in realtà era un acuto osservatore e ha poi raccontato la storia di una famiglia di scogliattoli che aveva occupato un nido abbandonato lì da alcuni uccelli. Non si è mai riferito ad un animale chiamandolo esso, secondo la normale consuetudine tamil, ma sempre egli o ella. È stato dato da mangiare ai ragazzi, diceva riferendosi ai cani dell'ashram. Date subito il riso a Lakshmi, intendeva dire alla mucca, alla mucca Lakshmi. Era regola dell'ashram che allora dei pasti fosse dato da mangiare prima ai cani, poi ai mendicanti che venivano e infine ai devoti. Conoscendo la riluttanza di Sri Bhagavan ad accettare qualunque cosa non fosse divisa ugualmente tra tutti, una volta fui sorpreso di vederlo assaggiare un mango tra i pasti, ma poi capì il motivo. La stagione dei mangi era appena agli inizi ed egli voleva accertarsi se quello era abbastanza maturo per poterlo dare al pavone bianco, che era stato mandato dalla Maharani di Baroda e che era diventato la sua guardia. C'erano anche altri pavoni. Amava chiamarli imitandone il verso ed essi andavano da lui e ricevevano arachidi, riso e mangi. Il giorno prima della sua morte fisica, quando i dottori dissero che il dolore doveva essere terribile, udì il grido di un pavone provenire da un albero vicino ed egli chiese se avesse ricevuto da mangiare. Dalla finestra gli scogliattoli solevano saltare sul suo letto ed egli teneva sempre accanto un piccolo recipiente di latta pieno di arachidi per essi. A volte porgeva il recipiente allo scogliattolo che entrava e lasciava che si servisse da solo. A volte gli offriva una noce e la piccola creatura la prendeva dalla sua mano. Un giorno, quando a causa dell'età e dei reumatismi aveva cominciato a camminare con l'aiuto di un bastone, stava scendendo i pochi gradini che portano al ricinto dell'ashram, quando uno scogliattolo gli passò correndo sui piedi, inseguito da un cane. Chiamò il cane ad alta voce e lanciò il bastone tra i due animali, ma nel farlo scivolò e si ruppe la clavicola. Il cane però fu distratto e lo scogliattolo si salvò. Gli animali percepivano la sua grazia. Se un animale selvatico è curato dagli uomini, i suoi simili lo respingono quando ritorna tra essi, ma se ritornava dopo essere stato da lui non lo facevano, anzi sembravano onorarlo. Sentivano che in lui c'era totale assenza di paura e di collera. Una volta sedeva sul pendio, quando un serpente gli strisciò sulle gambe. Egli non si mosse, né mostrò alcun allarme. Un devoto gli chiese che impressione si provi a sentirsi strisciare un serpente addosso e ridendo lui rispose, freddo e soffice. Non faceva uccidere i serpenti dove viveva lui. Siamo venuti in casa loro e non abbiamo il diritto di tormentarli o disturbarli. Nessi non ci danno fastidio. Ed era vero. Una volta, sua madre si spaventò all'avvicinarsi di un cobra. Sribagavan gli andò incontro e l'animale si girò e andò via. Sgusciò tra due rocce ed egli lo seguì. Il passaggio, però, terminava contro una parete rocciosa e non potendo scappare, il serpente si voltò, ragomitolò il corpo e guardò Sribagavan. Anche lui lo guardò. Questo durò per alcuni minuti. Poi, il cobra si allungò e, sentendo che non c'era motivo di avere paura, strisciò via tranquillamente, passando molto vicino ai suoi piedi. Una volta, mentre sedeva con alcuni devoti a Skandashram, una mangusta corse ad accucciarsi per un po' sul suo grembo. Chissà perché è venuta, disse. Potrebbe non essere una comune mangusta. Vi fu un altro caso di una mangusta fuori del comune, narrato dal professor Venkatramya, Venkatramya, nel suo diario. In risposta a una domanda postagli dal signor Grant Duff, Sribagavan disse. Fu in occasione della Rudra Darshan, una festa shivaita, una festa shivaita. Allora vivevo sulla montagna a Skandashram. Fiumi di visitatori salivano per la montagna dalla città e una mangusta, straordinariamente grande e di colore dorato, non il solito grigio e senza la consueta macchia nera sulla coda, passò impavidamente in mezzo alla folla. Tutti pensarono che fosse addomesticata e che il suo padrone si trovasse tra la folla. Andò dritto da Palaniswami, che stava facendo il bagno nella sorgente, accanto alla grotta Virupaksha. Egli accarezzò la creatura e gli diede dei colpetti. Essa lo seguì nella grotta, ne ispezionò ogni angolo e poi si unì alla folla che saliva a Skandashram. Tutti rimasero colpiti dal suo magnifico aspetto e dai suoi movimenti che non mostravano alcuna paura. Venne da me, mi salì in grembo e rimase lì accucciata per un po'. Poi si alzò, si guardò intorno e scese giù. Andò in giro dappertutto ed io la seguì, per timore che dei visitatori insensibili o i pavoni le facessero del male. Due pavoni la guardarono con occhi inquisitori, ma essa andò tranquillamente da un posto all'altro e infine scomparve tra le rocce a sud-est dell'ashram. Una mattina, prima dell'alba, Sri Bhagavan stava tagliando le verdure per la cucina dell'ashram insieme a due devoti. Uno di essi, Lakshmana Sharma, aveva portato con sé il suo cane. Un bel cane tutto bianco che correva e saltava intorno gioiosamente e rifiutava il cibo che gli offrivano. Sri Bhagavan disse, vedete quanta gioia dimostra, è un'anima nobile che ha assunto questa forma canina. Nel suo diario il professor Venkatramya ha parlato di un singolare caso di devozione tra i cani dell'ashram. A quel tempo, nel 1924, vi erano quattro cani nell'ashram. Sri Bhagavan disse che non avrebbero accettato del cibo se non ne avesse preso anche lui. Il pandit bolle metterlo alla prova, spargendo del cibo davanti ai cani, ma essi non lo toccarono. Dopo un po', Sri Bhagavan se ne mise un pezzetto in bocca ed essi li piombarono subito sopra e lo divorarono. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Condividi nei commenti la tua esperienza. Metti mi piace e iscriviti al canale di Doeya per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo nel prossimo video.